Allora siamo qui, oggi abbiamo un altro cittadino, un altro cittadino che è simpatizzante, non simpatizzante, altro partito. Abbiamo un simpatizzante. Che lavoro fai? Sono pensionato. Pensionato, ecco, qui abbiamo moltissimi pensionati. Questo che cosa significa? Usi il computer? Sì, in maniera assiduata. Ecco, quindi il computer si può usare, lo dovete usare, è un mezzo per comunicare, per dire la vostra, non è come la televisione che subite. Col computer potete anche esprimere la propria azione, potete interagire, fare proposte di legge sul portale... Non essere interrotti, come succede ai talk show per me, sì, essere improvvisamente interrotti. Quindi lanciamo un appello a chi usa il computer, a tutte quelle persone pensionate che dicono che è impossibile usare il computer. No, non è assolutamente impossibile, non è nemmeno difficile, basta applicarsi, basta avere... non c'è bisogno nemmeno di avere passione. L'importante è interessarsi alle cose, che attraverso il computer si può arrivare ovunque, dovunque e sapere tutto in maniera... Usare il computer è facile, usatelo.